salve a tutti amici artisti eccoci qui con un nuovo unboxing oggi unboxeremo samsung galaxy a 8 il nuovo cervello di daniele finalmente la tiso tanto è arrivato eccolo qua quindi non vediamoci gli occhi ne partiamo con la boxy apriamolo cercando di non rovinare la pellicola allora vuoi provare così proprio per evitare di rubare anche questo di rovinare come ho detto ma io ho detto il meglio che c'è nel senso come facciamo il possibile vediamo certo vogliamo raccontare perché ho cambiato te l'esatto ma questa c'era mai caso mai mettiamo aspettare anche da un bel po è allora caso mettiamo anche la foto forse ci sto riuscendo alla grande guarda allora mettiamo anche la foto del mio vecchio telefono allora allora praticamente il mio vecchio telefono ce l'ho più o meno da tre anni e mezzo e qualcosa e comunque essendo vecchio 8 inizia ad avere i suoi danni ha cominciato ai numeri ecco allora fortunatamente ho avuto la possibilità di comprarlo e abbiamo fatto anche tu un grande salto di qualità si guarda s5m8 a8 allora non è tipo ls9 plus però è un auto ecco qua io ho detto sto cercando di toglierlo senza rovinare perchè cerchiamo di essere attennavano le cose a differenza del video abbiamo visto prima dove ci stava un tizio che non dobbiamo rovinare un tablet e l'ha proprio distrutto accesso l'ha sventrato un porco ok ecco qua questa è l'unica cosa che dobbiamo tagliare qua vedi un foglietto della vodafone passiamolo di là come abbiamo sempre fatto e questa qua ho cercato di erano alla grande è fatto non riuscito ma devi devo aprire dove in questo qua ok colorazione nera nero a 8 non mi ha detto allora cerco di andare anche qua con molta cautela cercando di non fare danni dopo lo mettiamo a comparazione con le telefoni ma è allora di sicuro quello di mario è più grande perché a me tipo 5 pollici anche sotto i danni però forse sono riuscito anche una cosa precisa si è perché io penso di essere abbastanza preciso cautelo ecco qua ma c'è qua dietro c'è 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 ma ma mai vabbè è sempre una cassa forti samsung sponsorizzaci perché stiamo dicendo che sei la migliore e che hai fatto un ottimo imballaggio ecco qua io l'ho aperto adesso do a te l'onore di aprirlo vai ecco qua cosa abbiamo samsung galaxy a8 è un piacere dire la verità una soddisfazione qua telefono allora voglio fare un po di suspense lo mettiamo qua e apriamo il resto allora qua dentro allora io non so se c'è la cover però vai se c'è se c'è uscirà allora non lo so perché io no no non c'è non c'è ma io più o meno le ho sospettate ricordi perchè nella oltre qua sta la guida è quella questo è per togliere la sim poi qua stanno questo è il caricatore di tipo cia questo è il fast charger che può caricare tipo in un'ora il telefono che sta pure c'è la pellicola vicini e poi si può caricare ok ecco acqua stanno le cuffiette ok siamo in questo modo vediamo penso abriamo ma penso che quello volevo farlo ma forse forse non se ne viene allora vuol dire che la cover come pensiamo non c'è ma vedano si compra c'è nessuna certo la dovrei comprare perché sappiamo che è necessario allora cerchiamo di rimetterlo ok questo a di qua questo va di va di me a me poi dopo mettiamo una foto di prima e dopo tipo 10 anni challenge la challenge dei diritti 10 anni questo non fa questo va fuori apposta ecco qua ok allora pannetto straccetto straccetto allora ok fatto vedere l'effetto sono un enzime questo qua guarda come sta come se l'era aiuta ah la pellicola scura c'è giustamente cosa ma accensione avverti facciamo una comparazione per il tuo telefono allora vabbè più piccolino il mio un po come diciamo che non è piccoli cioè non è ecco qua quasi quasi ti supero no vabbè è quasi quanto il mio prima accensione accensione allora qua stanno i speaker questo la doppia fotocamera frontale questa qua dietro e qua c'è il sensore aspetto perché io penso che non so se si è visto ecco qua quello è il flash e poi una cosa molto comoda è che la c'è lo speaker quindi pratica uno tipo il mio vecchio telefono di nuovo lo speaker qua quindi quando guarda vuole io metto invece invece mostrata ok prima accensione certo vai Samsung galaxy a8 powered by android vabbè poi la configurazione la saltiamo vabbè almeno l'accensione soddisfazione allora mi sento soddisfatto come tu ti senti mi soddisfatto ma io lo sono ancora non è che ho cambiato di te la sono ancora e così deve essere anche chi sa quando ce ne volevo non siamo di quelli che lo possono magari io direi che possiamo concludere perché ci vediamo dopo ad accensione fatta eccoci qui allora il telefono è stato avviato acceso always on display guardare un attimo per sbloccarlo in più da ora aveva messo così si è acceso bloccato facciamolo vedere la panoramica ok cioè ci facciamo avete dietro questo quale dovrei e magari poca so ma io togliela dopo con calma comunque va tolta ovviamente soddisfatto soddisfatto una 10 10 anche 11 eccoci qua allora io vorremmo mostrare il telefono di daniele adesso penso che possiamo dire completo perché ha messo la pellicola ha comprato una cover bellissima infatti è bella cover magari fila la cambia pure io ne vedo una anche io professional no assolutamente è semplice però magari con qualcosa di particolare tipo così però qualcosa di cui piace a tipo di tipo che riguarda l'arte o i zoom è tutto indietro qualcosa che piacevole a mi come ti stai trovando ma benissimo anzi a dire il face di tipo mi me lo fa subito lo posso fare pure da qua mi ha sbloccato subito ma abbastanza poi risponde abbastanza veloce ai comandi c'è bellissimo mi trovo una bellezza è professionale comunque io sono di questa opinione che secondo me i telefoni dovrebbero essere sempre senza cover sicuramente però comunque perde tutta la sua bellezza sappiamo bene che cadono purtroppo che è normale e quindi almeno così ce li riguardiamo un pochettino perché quando poi avremo in futuro la possibilità di scambiarlo una volta al mese bene soddisfatto soddisfatto ok allora ci vediamo all'altro spero che questa boxing sia piaciuta come sempre mettete like al video commentate sotto condividetelo eh Daniele per fortuna è contento finalmente ah devo dire avete aspettato un bel po' anche lì perché rapenato ho un telefono rotto vecchio eccetera comunque banda alle ciance telefono nuovo è Daniele quindi al prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!